ciao a tutti io sono su e io giù in cucina per voi oggi che prepariamo frozen proteico e questa volta alla fragola ok vi dico già ingredienti il nostro formula 3 che è la polvere proteica il yogurt greco e le fragole semplici inizio due due misurini dovete prendere prima questo che è il polvere adesso ora facciamo solo una porzione però logicamente dovete fare se volete fare più porzioni misurare due misurini grandi di yogurt greco e un cucchiaio grande che sarebbe un misurino esattamente perché ti taglio io le fragole queste noi per ora le facciamo due fragole grandi però logicamente questo è molto a gusto vai vai c'è chi 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 mi ha un pochettino ricordiamo che ma in frizzetto ok li metto così dei pezzettini di fragola giusto per dopo mettiamo pure di più se volete mettere pure cioccolato in frigo almeno un paio d'ore si è pure di più magari questo è buonissimo di estate si può prendere sia come spuntino che come un dolce lo vero proprio nel punto giusto passaggiamo dai facciamolo vedere prima ho una curiosità guarda come fa che viene gelatino veramente buono una buona idea muatono bravo vabbiamo vabbiamo wow vabbiamo Grazie a tutti.